buona sera a tutti benvenuti come di consueto ad un nuovo webinar del lunedì delle ore 18 io sono luca di scacciati di investire punto biz con me dovrebbe c'è perché già lo vedo collegato il buon riccardino zago ciao riccardo ciao luca ciao pietro buonasera a tutti e come anticipato riccardo vediamo collegato anche il nostro stock specialist il nostro super esperto di azioni che veramente ultimamente ha spaccato il culo al mercato con le sue operazioni sui titoli soprattutto americani pietro origlia benvenuto a luca ciao riccardo ciao a tutti allora allora perché c'è pietro oggi perché in uno degli ultimi video io ho parlato appunto del del visore di apple dicendo appunto raccontando un po dal punto di vista finanziario quello che è successo e quelli che potrebbero essere le aziende che potrebbero appunto cavalcare questo nuovo trend del dei visori della della realtà aumentata del appunto del del come cacchio si dice ragazzi sono cotto il settore della 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 realtà virtuale ecco non mi veniva realtà virtuale siamo a lunedì ragazzi sono già bollito perfetto e e avevo promesso appunto in questo video che nel nel webinar di oggi avremo visto anche delle società che magari possono essere interessanti per uno short visto che appunto questo nuovo trend che potrebbe appunto essere lanciato da 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 apple potrebbe davvero cambiare un pochettino i connotati alle abitudini delle delle persone per come li conosciamo cosa tra l'altro assolutamente non assurda che è già successa con l'avvento prima dell'ipod e poi di iphone quindi insomma vedremo tra le varie cose in questo webinar anche con l'aiuto di pietro alcuni titoli in poche parole io chiesto a pietro di partecipare perché gli dirò quali sono questi titoli e lui ci farà sapere cosa ne pensa da specialista sui titoli americani riccardo ti lascio la parola non so se volevi dare un occhio a che cosa avete fatto con pietro di recente assolutamente sì volevo innanzitutto andare sulla piattaforma di kimura perché poi oltre a questi titoli qui vogliamo anche rispetto alle numerose richieste parlare di netflix amd intel tutti e tesla tutti i titoli che abbiamo in che abbiamo in portafoglio e tra l'altro ricordo a tutti che il nostro portafoglio anzi portafoglio di pietro sulle azioni americane adesso è composto da questi da questi titoli infatti volevo poi anche un commento da parte di pietro perché abbiamo di recente qui insomma vedete la data di acquisto il prezzo di acquisto la performance che è stata fatta diversi titoli interessanti tra cui alfabet netflix intel amd tesla che abbiamo comprato dei prezzi veramente ottimi quindi volevo innanzitutto fare i complimenti a pietro in quanto insomma stiamo facendo un 54 per cento di profit su amd un 42 per cento su tesla un 34 per cento su netflix meno 1,59 su nordic american tankers e un più 29,18 su alfabet e visto che ci sono state numerose domande anche qui poi andremo anche a vedere altri livelli interessanti dove magari poter tornare ad acquistare questi titoli perché sembra proprio che il mercato non vuole fermarsi allora come sta andando innanzitutto pietro questo mese di giugno per insomma all'interno all'interno del gruppo telegram pit trading e insomma poi quali sono anche gli altri titoli che stai che stai osservando non possiamo dire che sono tutti contenti per questo portafoglio che abbiamo creato soprattutto gli ultimi tre che abbiamo e che hanno visto l'ingresso nello spazio di poche settimane appunto amd tesla poi l'ultima legata poi al segmento dell'intelligenza artificiale e ricordiamoci che in questi titoli manca perché abbiamo avuto lo ripetiamo sempre abbiamo avuto quella sfortuna di chiudere invidia in stop loss e poi il titolo ha fatto a triplicato di valore c'è e però questo cosa significa che noi abbiamo una strategia abbiamo un metodo e sotto gli stop si vende c'è poco da fare poi la sfortuna è stata dalla nostra parte però non possiamo lamentarci perché appunto se dovessimo chiudere oggi il nostro portafoglio sarebbero performance veramente importanti e quindi credo che valga la pena seguirci seguirci sul nostro canale privato che abbiamo aperto appunto a chi sottoscrive il nostro il nostro servizio e quindi altri titoli sì ce l'abbiamo sotto osservazione abbiamo più volte parlato di apple però non ha dato mai segnali di poter entrare su fasi difentive perché noi insieme a te quando facciamo il webinar del martedì lo abbiamo spesso e volentieri detto in un trend come quello presente sul mercato americano con nasdaq che ha fatto una performance importante da inizio anno in scia ad una fed che potrebbe fermarsi per quanto riguarda il tasso di interesse noi abbiamo scelto la strategia di andare sui titoli dall'ottima forza relativa che dinanzi a fasi correttive di breve potrebbero rappresentare per noi una mai opportunità come appunto gli ultimi tre titoli che hanno proprio seguito questo canovaccio perché su fasi correttive il credo che l'esempio lampante amd più volte noi l'abbiamo detto l'abbiamo ripetuto che dinanzi a fasi correttive era un nostro la nostra grande presa l'abbiamo fatta e quindi proseguiamo così proseguiamo a cavalcare questi rialzi vediamo fin dove riusciamo ad arrivare esatto quindi non abbiamo preso invidia però siamo riusciti a prendere amd su un buon supporto intorno alla storia degli 82 se non sbaglio 80 81 ok dollari dollari per azione dicevi di apple non non siamo mai riusciti a entrare sul sul titolo apple anche qui magari vediamo vediamo qualche livello e poi passiamo ai titoli ai titoli di luca volentieri se ti ricordi riccardo di apple avevamo parlato che quando era 150 la davamo in ottica di medio periodo a rifare i massimi di sempre siamo stati quasi profeti per ora e andarla a comprare ora naturalmente è rischioso abbiamo bisogno di fasi correttive e anche importanti fasi correttive anche se credo che con la forza presente sul nasdaq le fasi correttive al momento sono veramente piccole io però ritengo che il titolo possa andare poi sentiamo anche l'idea di luca possa anche andare a superare la fatica soglia dei 200 dollari ma io credo assolutamente di sì che apple davvero stia dimostrando di essere davvero uno dei pochi titoli con una visione ben chiara sul futuro si sta posizionando bene su tanti settori come quello della salute quindi credo che avrà problemi in futuro l'ho detto appunto nel video dove abbiamo parlato del suo visore perché come ogni ogni azienda che è diventata così grossa poi passa ad un certo punto dove c'è qualcuno che propone di scorporarla e farla diventare più aziende più piccole però io credo che davvero apple con il fatto che mettano sempre davvero al centro e per primo l'esperienza dell'utente anche dal punto di vista della privacy dal punto di vista un pochettino della tutela proprio dell'utente credo che sia sia tranquilla da questo punto di vista giusto vi vorrei far vedere un attimo visto che abbiamo parlato di apple il forecaster perché su apple esattamente oggi comincia proprio un periodo di stagionalità molto molto positiva e quindi volevo farvelo volevo farvelo vedere perché è davvero molto molto interessante inizia un periodo davvero il più potente periodo a rialzo per questo titolo dell'anno e abbiamo di fronte a noi potenzialmente qualche mese davvero dove il titolo potrebbe sparare una cannonata verso l'alto e siamo proprio lì siamo su un minimo secondo la stagionalità molto molto importante col fatto anche che giugno teoricamente dovrebbe essere un mese tendenzialmente negativo ma non lo è stato vuol dire che il momentum è molto molto forte su questo titolo corretto tra l'altro se andiamo a vedere e aggiungiamo anche la stagionalità calcolata su 15 anni 15 anni sempre sul titolo apple ci accorgiamo come fa impressione sicuramente il mese di luglio perché negli ultimi anni è praticamente sempre salita e poi dalle statistiche abbiamo preso in considerazione quindi il periodo che va dal 12 quindi da oggi fino alla fine del mese di agosto e ci accorgiamo andando sulle statistiche anche le sono state le performance durante gli anni sia le performance positive che quelle negative però negli ultimi 15 anni solamente tre solamente tre volte ha chiuso in negativo e tra l'altro una di queste solo dell'1,22 per cento quindi a livello statistico diciamo che abbiamo delle ottime informazioni e si capisce che questo dato è abbastanza solido perché sia 15 a 10 a 7 e a 5 anni vediamo comunque una performance solida se se vai basso riccardo scendi dove ci sono ecco qua le torte vedi appunto che abbiamo 17 17 19 23 quindi abbiamo comunque una 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 performance abbastanza stabile negli anni in questo periodo cosa che ci fa capire appunto che è un periodo storicamente positivo ecco pietro ha detto che secondo lui il titolo potrebbe salire quindi la statistica lo conferma ecco assolutamente sì molto interessante questo dato e allora andiamo 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 lì a vedere questi titoli che invece potrebbero soffrire non solo magari in questo periodo ma nel nel lungo termine dopo la presentazione del nuovo prodotto che è l'apple vision l'apple vision pro mi prendo lo schermo momentaneamente che così almeno faccio vedere il mio perfetto un attimo che chiudo le pagine con le donnine sto scherzando sto scherzando allora vi faccio vedere il primo è questo qui dovreste già vedere siamo sul sito di investing amc entertainment holding che cosa fanno questi signori lo dice esattamente il nome dell'azienda si occupano di intrattenimento cosa nello specifico appunto questa azienda gestisce di fatto teatri e cinema quindi l'idea qual è l'idea sottostante è che già devo dire che per quanto i cinema e i teatri abbiano riaperto effettivamente c'è stato molto un cambiamento nelle abitudini delle persone con con il covid lo si vede bene appunto anche dal fatturato dal fatturato e dagli utili di questa azienda che anche in periodi non sospetti comunque diciamo ogni tanto perdeva soldi e comunque nonostante un fatturato in crescita di soldi di margine non ne aveva molto perché lo sappiamo è un business molto difficile quello degli eventi dal vivo ovviamente mazzata incredibile con il covid che ha fatto diminuire tantissimo il fatturato e prendere una mazzata incredibile agli utili che sono andati in negativo di brutto e poi vediamo che si si è chiaramente ripreso nel 2021 nel 2022 ma siamo ben sotto i livelli appunto del della pre pandemia un po come se davvero questo settore non si sia più ripreso e generalmente appunto questi segnali arrivano proprio quando c'è un cambiamento in atto proprio a livello di abitudini da parte delle persone se andiamo ad aprire il grafico eccolo qui datemi un secondo mettiamo il grafico magari settimanale che così lo vediamo vediamo appunto che con poi la riapertura dopo la pandemia c'è stato un una ripresa incredibile che addirittura ha fatto segnare per pochi momenti dei massimi storici e poi inesorabile il crollo tenete presente che appunto questo titolo in questo momento comunque è un titolo che capitalizza molto perché in questo momento il titolo vale 2.49 billion quindi 2 49 miliardi di dollari quindi secondo me se ci sono le condizioni questo potrebbe essere un titolo assolutamente shortabile cosa ne pensa il nostro pitt pietro origlia il grafico caro luca ci dice tutto guarda un trend discendente dove tutti rimbalzi al momento sono state delle occasioni per vendere e credo che nel caso in cui dovesse ancora leggermente rimbalzare fin verso la soglia dei 5 dollari questo potrebbe essere un'ottima occasione con un rischio rendimento accettabilissimo e chiuderemo leggermente sopra la soglia dei 5 dollari però avremmo veramente dei target ambiziosi perché con la rottura come stiamo vedendo dei minimi del 2023 lì a quel punto potremmo andare a vedere veramente livelli che abbiamo visto nel 2021 quindi credo che sia un titolo veramente trovato con massima attenzione quindi complimenti perché il trend è dalla nostra parte quindi un trend ribassista quindi si gioca a favore di trend e quindi ci sta veramente alla grande bene bene mi fa piacere non è che ci ho messo tutta questa enfasi nel cercarlo sono andato a vedere le aziende nel settore dell'entrattainment e fanno tutte così cagare quella questa mi sembra quella che facesse più cagare di tutte in verità è stato abbastanza semplice il lavoro di ricerca di queste vabbè comunque bene allora passiamo a vedere il secondo titolo che si chiama amc entertain e si buonanotte che si chiama live nation entertainment inch e con inch non sappiamo cosa voglia dire potrebbe dire in culata ma no no sto scherzando assolutamente live nation entertainment cosa fanno questi signori fanno eccoli qua si occupano di live entertainment tickets sale and marketing company in poche parole si occupano anche loro degli eventi dal vivo qui abbiamo una situazione un pochettino diversa perché ovviamente abbiamo esattamente come prima un'azienda che cresceva prima della pandemia ma praticamente con degli utili inesistenti una botta ovviamente allucinante nel 2020 con una perdita altrettanto grossa e una ripartenza nel post pandemia dove però vediamo sempre che addirittura nel 2021 c'è stata una perdita è un piccolo piccolo utile nel 2022 se andiamo a vedere un pochettino i dati fondamentali principali ci accorgiamo che questa è un'azienda molto grossa 20 billion di fatturato quindi un qualcosa di interessante ragazzi un p e un p un price earning di 105 secondo me questa azienda è sicuramente sopravvalutata quindi andiamo a vedere tra l'altro appunto del molto molto interessante questo 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 titolo perché comunque fattura è un'azienda assolutamente fatturatizia diciamo però diciamo che se fossero giusti appunto i ragionamenti fatti per per l'uscita di questo nuovo device della apple e le abitudini delle persone dovessero ancora più cambiare tenete presente che insomma perché dovrei andare a spendere 10 mila dollari per un biglietto di una partita dell'nba in in live quando lo stesso biglietto lo posso magari pagare 100 dollari essere a bordo campo vedendolo con il mio visore non lo so però diciamo che se dovesse effettivamente avere successo questo mondo del della realtà virtuale questo potrebbe essere effettivamente un settore che andrebbe a perdere tantissimo ecco qui il grafico cosa ci dici pietro anche qui abbiamo 2020 il il crollo della pandemia e poi un'ottima ripresa qui siamo però di fronte a un titolo che nel lungo termine ha performato abbastanza bene eh assolutamente sì situazione diversa rispetto a quello di prima credo che sul grafico giornaliero abbiamo visto un importante gap up il 5 di maggio credo che lì possono anche essere usciti dati e ora posso immaginare perché un'apertura così forte al rialzo possono anche essere stati dati del primo trimestre sicuramente poi c'è stata questa importante spinta che l'ha portata a breccare i massimi del 2023 nuova fase correttiva ora nuovo rimbalzo e ora potrebbe esserci anche un doppio massimo quindi perché se non dovessimo andare a superare questa rete esistenziale ovvero quelle attuali a quel punto si potrebbe aprire anche in questo caso un rischio rendimento da nostra parte una operatività short di breve con primi target il pullback che ha fatto appunto nelle settimane passate e sotto poi si potrebbero avere altri target di bassisti che potrebbero andare anche verso 73 75 dollari quindi credo che siamo qui siamo alla prova del 9 se supera se dovesse superare quelle resistenze il consiglio è quello da aspettare se non dovesse superarli però ricordiamoci un pie come dicevi tu stratosferico siamo oltre 100 e quindi è veramente sopravvalutata e forse il titolo ha corso anche parecchio e quindi se non dovessimo superare quelle resistenziali che sono quelle attuali uno short appunto di breve periodo con i minimi appunto che abbiamo toccato qualche settimana fa sui 78 89 dollari potrebbe essere potrebbe essere raggiungibile sotto si aprirebbero veramente poi spazi più interessanti perché lì riprenderebbe una fase discendente con appunto l'area dei 75 dollari è un po' diverso rispetto a quello di prima quello di prima proprio lì andiamo lisci come l'olio bene 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 e allora se dobbiamo preferirne uno è meglio vedere appunto quello quello di prima ovvero amc c'era qualcuno dalla chat che mi ha consigliato Caesar CZ adesso mi sembra Caesar Entertainment Corporation vediamo chi sono questi signori andiamo a vedere 10 miliardi di capitalizzazione P è negativo quindi vuol dire che perdono i soldi ok vediamo che cosa fanno questi signori gaming and hospitality company che detiene che appunto è proprietaria di gaming facilities potrebbe essere che questi siano ah ecco qua proprietaria appunto di casino e il Tropicana hotel a Las Vegas evidentemente evidentemente anche del Caesar Palace che è un altro hotel non lo so questo qui dovrei farci qualche ragionamento in più perché il casino e questo tipo di di come dire di intrattenimento localizzato in un singolo punto è un po' diverso rispetto al al ai cinema i teatri magari sparsi su tutto il territorio nazionale della serie bella l'esperienza nella realtà virtuale ma io personalmente a Las Vegas visto che ci sono già stato ci tornerei molto molto volentieri non vedo l'ora di tornare a vedere una partita di basket devo dire la verità piuttosto che un film al cinema se me lo vedo con un visore performante che me lo posso vedere veramente in maniera incredibile evidentemente salto salto molto volentieri qui stiamo parlando di hotel vedete presenti anche sull'isola di Capri quindi dico la verità è un qualcosa di un po' diverso non non sarei così confident nel nell'andare a cercare di di shortarlo anche perché appunto con io credo che con l'integro e con appunto la realtà virtuale si dividerà un po il mondo in esperienze veramente incredibili come per esempio appunto la vacanza a Capri che è una cosa che non puoi fare nella realtà virtuale e esperienze normali che puoi fare benissimo e forse anche meglio con la realtà virtuale tipo seguire una partita di basket probabilmente con la tecnologia che avremo a disposizione sarà letteralmente meglio seguire una una un come dire una partita di basket in in realtà virtuale la vacanza di una settimana in un hotel di lusso all'isola di Capri ragazzi è un'altra cosa quindi no questo titolo qui ragazzi non lo voglio shortare perché per quanto non per quanto non abbia chissà quali margini ma non non lo so non non sono così confident preferisco rimanere su amc come abbiamo visto prima bene lato mio ragazzi quello che volevo chiedere al buon pitt pietro riglia ho fatto quindi riccardo riprenditi pure lo schermo che andiamo a vedere qualcos'altro yes mi prendo subito lo schermo e oggi purtroppo dobbiamo per forza parlare del titolo mediaset allora mi riprendo lo schermo allora oggi purtroppo ci ha lasciato uno degli imprenditori più in uno degli imprenditori più importanti nella storia del nostro paese Silvio Berlusconi e abbiamo assistito anche a altissima volatilità sul titolo sul titolo mediaset addirittura segnando un più dieci un più dieci per cento al momento però ci ritroviamo con un più due virgola trenta due per cento e quindi volevo chiedere volevo chiedere a pietro riglia quali sono quali sono insomma le tue previsioni su su questa su questa azienda cosa potrebbe succedere da qui da qui in avanti e poi chiaramente andiamo a fare anche un'analisi prettamente tecnica del grafico io poi ho una domanda come mai il titolo è salito così tanto cioè perché con appunto la la l'addio di Silvio Berlusconi che è il fondatore di tutto questo il titolo ha avuto un rialzo parli di oggi luca o della sì 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 no 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 parlo di oggi beh cioè mi fa strano vedere con la morte di Silvio Berlusconi il titolo che in borsa sale ecco perché 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 gli investitori sono cinici e quindi immaginano possibili scenari possibili cambi al vertice catena di controllo che viene cambiata però dobbiamo ricordare è un'importante cosa che la maggioranza è nelle mani di Fininvest ricordiamoci che noi abbiamo sul mercato due tipi di azioni e media for europe a e b sono lo split della vecchia media set che è avvenuta a fine 2021 si differenziano per questo dobbiamo dirlo anche dall'importanza perché la b avere la b vuol dire di avere più voti in assemblea 10 la è quella che vale tra virgolette di meno come voti in assemblea però se tu fai un'opa devi farla su tutte e due le due le due azioni e quindi da questo punto di vista si è aperta la possibilità la speculazione che possa esserci un cambio che la famiglia la società sì ma credo che sia passato il mercato il mercato probabilmente dice beh adesso che è morto Silvio magari i figli si fanno quattro conti e vendono tutto ad un bel gruppo più grosso e buonanotte si stanno a godere i soldi però io ho dei dubbi che possa succedere perché alla fine è come se tu lasci lasci in eredità un testamento di avere sempre queste televisioni nelle tue mani e ricordiamoci oltre il 48 per cento nelle mani di fin investa intorno al 24 23 24 abbiamo e vivendi che anche qui è socio non è solamente socio nella partita telecom ha messo c'è anche qui e poi sul mercato c'è la rimanente parte del 35 per cento credo che sia difficile un possibile cambio almeno nel breve però il mercato oggi pensa questo però basta vedere la volatilità che poi si va a chiudere quasi vicino ai minimi di giornata ricordiamoci che venerdì poi c'era stata quella importante candela rialzista che si era formata in scia al nuovo ricovero di Berlusconi venerdì oggi sì questa fiammata però poi il titolo che chiude quasi vicino ai minimi di giornata chiude con un rialzo di poco più del 2 per cento non va a superare un'importante soglia psicologica degli 0,75 quello l'importante resistenziale oltre quali poi si aprirebbero spazi importanti ricordiamoci perché tu riccardo lo facevi ben vedere otto volte la media se non era mensile sono gli scambi odierni quindi volumi boom come non se l'ho mai visti perché la speculazione qui come al solito cinica torna in gioco torna in campo io dico la mia difficile vedere una possibile vendita nel mese passato c'era stato rumors che parlavano di cairo abbiamo fatto un bel articolo su investire.biz appunto su cairo e mediaset a maggio e oggi dove dovrebbe uscire ho già uscito alle 18 anche in questo caso un importante articolo che abbiamo fatto sul sito di investire.biz appunto su mediaset quindi parla di tutta la situazione e della view anche per le prossime giornate quindi credo che comunque può rimanere un titolo sotto osservazione almeno per le prossime settimane senza dubbio rimane rimane nella nostra watch list possiamo vedere un grafico di lungo termine riccardo per favore che vorrei vedere proprio storicamente come si è comportato questo titolo perché oddio gli azionisti non credo che siano proprio molto contenti di questa gestione quando è che era stata quella quella volta in cui c'era berlusconi presidente del consiglio non so se qualcuno che ci sta seguendo mi può aiutare ma lui aveva detto che le sue azioni le azioni della sua azienda erano sottovalutate e mi sembra che fosse che fossero a 45 euro per azione che il mondo si scandalizzò perché disse ma come il presidente del consiglio dice di dice in diretta nazionale di comprare le sue azioni che sono sottovalutate credo che fosse proprio il 2008 non mi ricordo c'è qualcuno che ci sta seguendo che magari se lo ricorda se no lo cerchiamo e lo andiamo a dire la settimana prossima vediamo perché io me lo ricordo perfettamente perché io vidi questa roba e mi ricordo che dissi cacchio ma questo qui è turbativa da c'è non non si può fare questa roba qui è una cosa assolutamente vietata ovviamente in una riuscire a fare questo è perché trampe non aziende quotate in borsa perché se no col caso se no col cavolo avrebbe fatta anche lui assolutamente vediamo 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 no non se lo ricorda nessuno evidentemente lo cercherò e lo troverò stefano dice che era l'estate 2011 a memoria potrebbe essere potrebbe essere e disse appunto che erano erano sottovalutate che era una bella occasione da comprare in borsa potrebbe essere però insomma non non è stato così tra l'altro era sicuramente un grande in tante cose ma non a fare previsioni sulle azioni non come il nostro pittoriglia invece che ha preso amd e stiamo facendo un sacco di soldi verissimo volevo aggiungere una cosa qui sul sul titolo mediaset perché come diceva come diceva pietro quello che è successo oggi a livello grafico è molto interessante vedremo come anzi ha già chiuso il titolo ovviamente però volumi altissimi con una seduta che va a testare i massimi i massimi di periodi di periodo va a segnare un nuovo massimo e quindi molta molta attenzione perché questa potrebbe trasformarsi in un'operazione a mio avviso short perché se non passa questo muro che si è creato oggi perché oggi si è creato un muro con tutti questi volumi ci sono delle ottime opportunità al ribasso però pietro poi ovviamente se sai se sarai se sei d'accordo con la mia view e ci sarà un se ci sarà un segnale short lo vedremo direttamente poi all'interno del tuo gruppo telegram dove tutti i giorni vai a condividere l'operatività i segnali operativi una mela al mattino con il commento sull'apertura delle quotazioni una mela metà giornata insomma veramente tanti contenuti con tanto di performance mese dopo mese per il portafoglio l'italia dal 2014 stessa cosa per il portafoglio wall street quindi americano dal 2020 cosa ne dici di questo short pietro come lo vedi dico di sì perché sotto i minimi che abbiamo toccato durante la scorsa settimana che poi sono i minimi delle ultime settimane lì potrebbe veramente aprirsi una posizione sciolta perché nel momento in cui ci dovesse essere una dichiarazione da parte della famiglia da parte di persilvio che dice no non si vende nulla a quel punto la speculazione cala scende e lì si aprirebbero veramente spazi al ribasso che potrebbero anche essere interessanti 0 65 0 60 quindi farei molta attenzione sia al rialzo che al ribasso naturalmente vediamo io vendi tutto facciamo un appello a piersilvio vendi tutto goditi i soldi vendi tutto ma che cacchio stai lì a combattere a fare vendi tutto porta a casa e vai con la tua famiglia a vivere ai caraibi noi l'avremmo fatto vero luca assolutamente tutta la vita tutta la vita concordo benissimo direi che insomma abbiamo visto abbiamo visto tutto per oggi ragazzi grazie per aver partecipato grazie ti chiameremo ti chiameremo ancora perché davvero stai facendo un grande lavoro con con le azioni complimenti davvero e siamo veramente contenti di averti in squadra qui ad investire punto biz ragazzi che ci state ascoltando se qualcuno di voi è davvero interessato a imparare seguire fare pratica nel mondo delle azioni con pietro davvero siete in buone mani quindi grazie mille pietro grazie a voi grazie a tutti ciao buona serata ciao ciao a tutti